Ciao amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo mostrare un paio di nodi interessanti per tenere chiuse le nostre cose come coperte, materassini e quanto altro. Quindi se vi interessa rimanete con me nel corso del video. Andiamo! Allora amici, il primo nodo che vi vado a mostrare me l'ha condiviso il mio amico Flavio che saluto. Molto semplicemente è un nodo bocca di lupo autobloccante che serve proprio per chiudere cose tipo materassini, coperte eccetera. Molto semplice da fare, si prende la corda doppia, quindi uno spezzone di corda doppia, si prende il capo in questo modo e si gira così. Quindi da qua si gira verso la corda e si vengono a creare questi due anelletti che andranno poi uniti verso il basso. In questo modo avremo il bocca di lupo. Una volta fatto questo nodo passiamo il capo da una parte così ok e l'altro in senso contrario così. Ecco qua vedete? Uno di qua e uno di là. Andiamo a stringere il bocca di lupo in questo modo e voilà avremo questa situazione. Guardate quando andiamo a tirare il nodo si bloccherà direttamente qui e andrà a stringere e non si allenterà più. Vedete? In questo modo non si allenta più. Qui se vogliamo possiamo fargli o un fiocchettino, in questo modo, oppure possiamo farlo proprio su misura, cioè tagliare proprio la corda su misura, lasciare due spezzoni e lasciare anche così. Però io preferisco farci un fiocchettino per sicurezza. Ok? Ok. Nel momento in cui dobbiamo scioglierlo semplicemente andiamo ad aprire queste due corde e voilà. E possiamo sfilare via il tutto. Una volta fatto questo qua possiamo anche lasciarlo direttamente così. Non abbiamo bisogno di scioglierlo ma semplicemente sfilandolo via e poi magari rimettendolo in un secondo momento quando dobbiamo andare di nuovo a chiudere il nostro materassino o la nostra coperta. Insomma qualsiasi cosa. Questo nodo qui possiamo sfruttarlo anche per tenere chiuse delle scatolette. Per esempio io sto tenendo chiusa questa qui, semplicemente usando lo stesso sistema. Eccolo qua. Ok? Nel momento in cui mi serve mi basta solamente allargare e sfilare via il tutto. Nel momento in cui mi serve basta che lo vado a reinserire. Ok? Chiudo e voilà. E rimane bloccato. Una mia piccola variante. Ho fatto semplicemente due piccole gasse d'amante per un'apertura più facilitata. Ok? Nel momento in cui voglio andare a chiudere e in più si andrà a chiudere nel punto disegnato in questo modo fiocchetto e abbiamo tutto conservato. Nel momento in cui lo voglio aprire semplicemente apro il fiocchetto, inserisco le due dita nelle due gasse, tiro e si allarga semplicemente. Lo sfilo e voilà. Nel momento in cui voglio riutilizzarlo, lo rinserisco all'interno, prendo i due cordini, tiro, si andrà a bloccare tra l'altro dove le gasse d'amante, quindi posso anche scegliere quanto stretto lo voglio, in modo che quando tiro poi si va a bloccare direttamente sulle gasse. Fiocchettino e voilà. Ce l'abbiamo bello che è sistemato. Ok? Sciogliamo, tiriamo le due gassine e lo apriamo. Questo stesso nodo possiamo sfruttarlo anche per fare le legature a croce, per iniziare le legature a croce. Semplicemente mettendo un'asola da una parte e un'asola dall'altra abbiamo questa situazione qui, andiamo a stringere e già stringendo forte abbiamo una situazione di blocco. Ok? Vedete che non si muove più. A questo punto possiamo anche continuare a fare la nostra legatura per rinforzare il tutto. Ok? Quindi andiamo a fare questo lavoro qui. Andiamo a mettere tutto bene in tensione. Ora, giusto a scopo dimostrativo, ok? Giusto per farvi vedere il concetto più che altro. Ecco qua. Voilà. Ok? Vedete? E funziona bene anche per iniziare la legatura. Ci stabilizza il tutto, poi possiamo continuare a legare la croce tranquillamente. Il secondo nodo che vi voglio mostrare si chiama nodo del gatto e serve allo stesso scopo. L'unica cosa è che possiamo adottarlo solamente con materiali elastici, ok? Quindi che può essere un materassino, una coperta, qualsiasi cosa che possa andare in compressione. Ora vi spiego. Allora, come si fa? Si prende la corda, si passa allo stesso modo di quello di prima. L'unica cosa è che non dobbiamo fare il bocca di lupo, ma semplicemente dobbiamo passare un capo all'interno, in questo modo, l'altro capo allo stesso modo verso l'interno, quindi dall'esterno all'interno e avremo questa situazione qui. Ora noterete che nel momento in cui vado a stringere il tutto si bloccherà. Vedete? Voilà. E non si scioglie, eh? Ragazzi, rimane veramente ben pressato. Qui al massimo possiamo fare semplicemente un fiocchettino per bloccare ancora con più sicurezza e già vedete come rimane bloccato? Nel momento in cui dobbiamo scioglierlo semplicemente tiriamo il fiocchetto, apriamo le due corde e abbiamo completamente tutto libero. Vedete? Secondo me questo per le cose elastiche è anche meglio perché è più facile da sciogliere, ragazzi. È molto più facile. Quindi tac, tac. Veramente semplicissimo. Nel momento in cui dobbiamo liberare basta aprire le corde e si libera veramente in una maniera semplicissima, ok? L'unica cosa è che purtroppo ci serve qualcosa di elastico per applicare questa tensione, questo blocco. Altrimenti se già fosse una scatola questo sistema qua non andrebbe bene. Però per le cose morbide semplicemente tiriamo, si va a bloccare, qui un fiocchettino per sicurezza, giusto per dargli un blocco, e voilà. Ok? Bene amici, le applicazioni di questi due sistemi di chiusura sono veramente tantissime, poi sta a noi valutare dove possiamo applicarli, ok? Io spero di vero cuore che il video vi sia piaciuto e che i sistemi vi possano essere utili. Fatemi sapere, fatemi un commento per sapere questi due sistemi, ok? Io vi ringrazio per la visione. Prima di lasciarvi come sempre vi ricordo la mia pagina Instagram dove pubblico i miei lavori, i miei progetti e tanto altro, anche delle skill. Quindi se volete potete seguirmi anche su Instagram. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!